Questo convegno sta fornendo abbastanza interesse anche in luce di quello che è stato annunciato che nella legge di bilancio del 2017 è stato richiesto spesso anche dalla Confartisanato è stato prorogato fino al 2021 la possibilità dell'agevolazione fiscale sia per ristrutturazione che per le riqualificazioni energetiche quindi a maggior ragione così si ha la possibilità di programmare sia per proprietari che per condomini la possibilità di intervenire per riqualificare non solo per caldaie e serramenti ma anche per l'involucro edilizio che necessita spesso interventi molto più consistenti quindi a maggior ragione oggi sentiremo un po' un dibattito inerente a questa riqualificazione dei fabbricati e quant'altro